Questo dispositivo è uno di quelli che ti fa un po' rimpiangere di essere uno che gli smartphone li prova perché sai che te ne dovrai separare. Sì, lui mi è piaciuto veramente, veramente tanto e questo video anche sarà una soddisfazione per tutti i fan di Motorola. Ma prima di iniziare ragazzi io devo ringraziare assolutamente Tiger Shop che mi ha dato l'opportunità di provare questo dispositivo e alla fine di realizzare questo video per voi che lo state guardando. E qua sotto naturalmente vi lascio il link allo store perché viene venduto ad un prezzo veramente interessante, vi consiglio quindi di darci un occhio. Ma ora iniziamo a parlare di questo smartphone che nell'intro io ho definito spettacolare e questa sensazione non può che essere associata a questo display, veramente incredibile. Perché appena lo accendete l'effetto è veramente wow, un effetto che non provavo da tantissimo tempo. E questo naturalmente grazie a questa curvatura veramente esagerata da 90 gradi e la sensazione di quando lo si usa è di immersività totale. Sembra quasi, per farvi un paragone, di andare ad immergere, a schiacciare le mani dentro il display. Chiaramente potrebbe non essere apprezzato da chi non ama in modo particolare i display edge, però ci sono anche dei vantaggi oggettivi. E uno di questi è il fatto che al netto di accettare una piccola distorsione classica sui bordi abbiamo un grandissimo vantaggio nell'usabilità. Motorola infatti ha lavorato benissimo su tutti i tocchi involontari che qui non ci sono e l'unica situazione in cui proprio l'ho visto un attimo in difficoltà è quando lo tenete la mano su un'icona e cercate di spostarla dall'altra parte. Ma se proprio vogliamo evitare tutti i problemi basta andare nelle impostazioni e disattivare schermo sui bordi e li siamo a posto. Però d'altro canto questa è un'operazione, quella di cercare di spostare un'icona da una parte all'altra che viene da fare solo su questo dispositivo. Perché nel 99% di tutti gli altri dispositivi non vi viene nemmeno in mente e questo grazie al fatto che lui è veramente ridotto in larghezza nonostante la fine sia un 6,7 pollici e quindi l'usabilità è veramente estrema. E tutti i bordi scivolano tra le mani ma senza creare quell'effetto saponetta tipico di dispositivo che vi sembra sempre scivolare tra le mani cadere grazie al fatto che il retro è in policarbonato. E quindi semplicemente usarlo e tenerlo tra le mani è veramente bellissimo però ha un difetto importante ve lo devo segnalare che è impossibile utilizzarlo con una cover. Cioè non vi viene proprio da metterla, vi piace così senza niente tenerlo e scriverci, usarlo, guardare i video, veramente impossibile, metterci una cover e andare a rovinare in parte un'estetica che è veramente riuscita. E tra l'altro comunque il display non solo è particolare per questa piegatura esagerata ma veramente eccezionale per una risoluzione full hd ovviamente tecnologia oled ma non solo hdr 10 plus 90 hertz che possiamo comunque decidere se lasciarli sempre o meno. E la qualità è massima, perfetta terratura dei colori, luminosità eccezionale insomma ragazzi fantastico. L'unico segno di discontinuità è quel piccolo foro della fotocamera frontale e comunque poi naturalmente abbiamo il sensore per le impronte che è posto sotto il display, un sensore buono, non eccezionale comunque non mi ha mai dato problemi, buone prestazioni generali, solo un filo meno fulminio rispetto ai top di gamma. E pensavo che in generale in questa recensione mi concentrerò veramente tanto nell'usabilità e nel cosa significa utilizzarlo più che nella scheda tecnica che ormai lo sapete e trovate un po' in tutti i siti. Però d'altro canto voglio anche finire di accernarvi un paio di cose, in realtà sono più di un paio, proprio sul design che è la cosa caratteristica fondamentale di questo dispositivo. E come vi dicevo prima il retro è in plastica e quindi aiuta con il grip rispetto al vetro, però la struttura è in alluminio e si sente non tanto per il peso che comunque rimane sotto i 190 grammi e questo vi aiuta alla grande quando lo utilizzate non vi dà mai la sensazione di essere troppo ingombrante o troppo pesante, ma proprio lo si sente nella solidità. In realtà del design, come vi ho detto prima, ce ne sarebbe veramente da parlare un sacco, ma cerco di stringere a questo punto la situazione. E beh, devo menzionarvi che le fotocamere dietro sono a filo, fantastico, un altro motivo in più per utilizzarlo senza una cover. Il retro è semplice ma elegante, con il logo M di Motorola che risalta ma non è in rilievo. I bilancieri e il tasto power sono sul fianco ma un po' più in basso rispetto all'asse centrale, però sono facilmente raggiungibili, tra l'altro il tasto power. Ha una finitura zigrinata, quindi riconoscibile al volo quando ci appoggiate la mano. Il bordo superiore e inferiore invece sono piatti, ma come vi dicevo in alluminio, sensazione premium altissima. E sopra troviamo uno slot doppio che è ibrido, quindi potete scegliere due sim oppure una sim all'espansione della memoria, mentre sotto abbiamo la Type-C e un jack da 3,5 mm, oltre che poi lo speaker. E sullo speaker devo farvi una considerazione a parte perché è un'altra di quelle cose veramente pazzesche di questo telefono. Beh, abbiamo qua uno speaker che è stereo, ma è alla grandissima, veramente fenomenale. Ha un audio caldo, pieno, bello potente. Stereo fatto come si deve, quindi non troppo sbilanciato. Sembra quasi di avere un piccolo speaker. Sentite qua che bell'audio. Insomma, un'esperienza di utilizzo sia nella visione dei filmati che poi anche nei giochi di assoluto livello, e questo naturalmente anche grazie alle ottime performance, alle ottime prestazioni garantite da uno Snapdragon 765, un processore che abbiamo imparato a conoscere e assolutamente ad apprezzare, con poi 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. Ovviamente nessun problema nell'uso quotidiano, tutto scorre estremamente fluido, sia grazie alla frequenza di aggiornamento del display che poi naturalmente anche al software, ma ne parleremo tra pochissimo. Io l'ho pesatamente testato anche con diversi giochi. Mi è capitato, devo dirvi, uno o due lag, ma proprio impercettibili e in diverse ore di gioco, e l'unica cosa che devo segnalarvi è che inizia leggermente a scaldare, ma solo dopo diversi minuti, circa una ventina minuti di gioco, e sono nella zona superiore senza mai andare a incidere realmente nell'usabilità. E vi ho accennato del software, perché è un'altra di quelle cose che mi è assolutamente, veramente piaciuta in questo dispositivo. Lui sappiamo che Motorola si avvicina tanto all'Android Stock, ma qui ci sono una serie di piccole cose, di piccoli aggiustamenti, di piccoli accorgimenti di Motorola che ho apprezzato tantissimo. E tra questi, naturalmente, il fatto che abbiamo una schermata di blocco interattiva, che quindi ci mostra le notifiche, se ci andiamo ad appoggiare il dito sopra, possiamo strisciare per poi andarle a sbloccare, capitarci direttamente dentro. Forse non è il massimo per la privacy, però è eccezionale ed è comodissimo. Poi abbiamo le Moto Action, che vi dicevo che mi è capitato di usarle più di qualche volta, come quella per attivare la torch e la fotocamera, su tutte in assoluto. E poi abbiamo il Moto Display, che anche lì fa un sacco di cose veramente carine, oltre a quelle che in realtà vi ho già menzionato, come per esempio il fatto che possiamo toccarlo sui bordi per avere alcune funzioni in ultravelocità, oppure illuminarsi sui fianchi quando riceviamo una notifica, o anche farlo rimanere acceso se lo stiamo guardando senza necessariamente continuare a toccarlo. E ragazzi, tante piccole cose, ma che vi confesso, nell'usabilità sono state semplicemente utilissime. E in più, comunque, abbiamo naturalmente Android 10, patch abbastanza bene di agosto, nessun problema con i certificati WeDevine, Prime Video si vede in HD, nessuna applicazione poi strana, ho applicativi non cancellabili, tutto bello pulito. E quindi, perfetto, magnifico, consigliatissimo, andate subito a comprarlo o no. Lo sapete che io in ogni dispositivo, anche se mi è piaciuto tantissimo, come questo Moto Edge, ne cito sempre anche le cose negative. Ed ecco, le cose negative di questo dispositivo, però, non mi fanno cambiare la mia opinione nei suoi confronti. Tra queste cose, sicuramente voglio menzionarvi la ricarica wireless, perché è vero, non fondamentale, ma in un dispositivo del genere me la sarei aspettata. Poi, è idrorepellente, ma non c'è nessuna certificazione IP, e manca anche il Wi-Fi 6. E se vogliamo, queste sono tutte cose anche di seconda fascia, non così importanti, ma c'è un'altra, un po' più importante, che devo menzionarvi, che non mi ha entusiasmato, e che riguarda le fotocamere. Non tanto le fotocamere in generale, ma proprio l'ambito foto. Di per sé, come sensori ci saremo, perché abbiamo il 64 megapixel, che è il principale da f1.8, 16 megapixel per l'ultrawide, non spintissima, perché ha 117 gradi di field of view, e poi abbiamo l'obiettivo 2x da 8 megapixel. Però, vi dicevo, non mi hanno convinto appieno, e questo soprattutto di sera, perché in realtà di giorno vengono anche abbastanza bene. Sicuramente di buona qualità, bei colori, altissima definizione, un buon tervento dell'HDR, un effetto sfocatura non perfetto, ma comunque molto buono, così come buoni anche i selfie. Però con le luci medie, con il calare della luce in generale, beh, lì le performance, le prestazioni calano parecchio, inizia ad arrivare il classico rumore digitale. Poi spesso vengono foto un pochino mosse, anche attivando l'opzione notte, comunque non migliora di granché. E le prestazioni, insomma, con poca luce, sono state un pochino deludenti, soprattutto se le inquadriamo poi nella sua fascia di prezzo di 400-500 euro attuale, dove invece però si riprende, e si riprende alla grandissima per quanto riguarda i video, che sono venuti veramente bene. Guardate qua che belli che sono poi super stabilizzati in 4K, anche a 60fps, in questo caso anche di sera, sono dimostrati veramente buoni. Ottimi comunque, con una messa a fuoco sempre rapida, in linea, alla fine con dispositivi della sua fascia di prezzo. Quindi, ecco, se dovessi trovargli un reale difetto, sì, proprio l'ambito foto. Ecco, le foto non mi hanno, come vi dicevo, entusiasmato tra l'altro. Se andate a scattare, dopo ci mette sempre qualche seconda a rendervi disponibile la fotografia. Però, a parte questo, poi ci sono un serie di altre cose che mi sono piaciute tantissimo, come la batteria, 4500 mAh, però guardate come alcuni giorni, anche tranquilli, tre ore e mezza abbondanti di schermo, però 52% di batteria, 4 ore e mezza di schermo e ancora il 43% di batteria, pure 5 ore e praticamente ancora il 40% fino poi al giorno in cui ho dato una bella botta da 8 ore e avevo ancora il 20%. Insomma, un comportamento costante, sincero, piacevole di quello che non vi abbandona assolutamente nella giornata di utilizzo è che, se non siete degli utilizzatori maniaci del telefono, vi porta tranquillamente ai due giorni. E concludo poi mostrandovi quello che c'è nella confezione, ci tenevo a mostrarvelo perché troviamo, oltre il caricatore da 18 W, abbastanza rapido, anche le cuffie e poi una cover, ma che avete capito che non utilizzerete mai. E ora arriviamo alle solite conclusioni. Ragazzi, lui mi è piaciuto, avete capito, veramente tantissimo per l'effetto wow che crea, per questo display eccezionale, per un software veramente riuscito, bello, piacevole, con poche chicche, ma veramente centrate, e poi una batteria veramente eccezionale. E quindi, sì, associato all'usabilità, ottima, è un terminale che vi consiglio, ma vi consiglio, se non siete di quelli che ritengono le fotocamere l'aspetto più importante di un dispositivo, altrimenti potrebbero esserci altri terminali che potrebbero fare più al caso vostro. Detto questo, io vi ricordo, come al solito, che qua sotto c'è il link per comprarlo direttamente dal sito Tiger Shop, e poi, se volete vedere altri miei video, beh, allora attivate la campanellina, così ci rivediamo ad una prossima recensione. Un saluto da Daniele Pinto.